diversa e non la gestiscono come questo gioco. Quindi probabilmente su Ghost chi avrà la 100 Mega online giocherà sicuramente meglio di chi avrà la 7 Megadice, cosa che sul sottogioco non succede mai praticamente. A me niente. Molto bene. Postazione Raid finalissima, basta parlare di protezioni, mi lo auguro dentro. Allora, per il Nex abbiamo Lukeman, una bella conoscenza, grande conoscenza per quanto riguarda Leonardo, poi abbiamo Duke, poi abbiamo Meg, lo chiamo così, che dovrebbe essere non so te che conosci più, e più abbiamo Andex. D'altro lato l'oggiante in Godfrey con Maestre, Ninja, Charisma e Mehdi sono rimasti questi qui, e dire di andare con le gambe proprio su in questa quadra Meg, che è in una posizione abbastanza insolita, che difficilmente riesco a vedere, in questi casi, sopra al pedestale, alla fontana. Alla fontana? Sì. Dopo alla statua, sì. Non so come chiama. E beh, il Callouts, che mi ricordi Callouts? Miei bellissimo, Giorgio. tipo queste cose che davamo questi nomi veloci sì 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 a caso no 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 ma perché giustamente era difficile ogni tanto capita che non sai come chiamarla e che ho un nome lunghissimo particolare gli dà un nome a cazzi tuoi quindi scusate il termine vabbè basta che capivo esatto intanto vediamo proprio i lookman che stanno cercando di andare la postazione successiva next sono in mezzo io sarei la cam per più di una morte non so se tu stai cambiando cam ogni volta che qualcuno muore ma magari lascia la cam per più di una morte su qualcuno in modo che magari si segue un po' la sua il suo mindset in partita e il decision making visto che magari alcuni che guardano lo streaming vorrebbero capire magari qualche volta il ruolo di chi gioca ottimo consiglio a volte molti chiedono esatto a volte molte persone chiedono vorrei vedere come si gioca con quest'arma vorrei vedere come si gioca in questo ruolo no? e se capita guardano uno streaming e sperano che nel podcast i commentatori magari mettono la visuale sul giocatore che gli piace vedere e preferiscono magari loro sono SMG e dicono noi vorrei vedere il lookman perché mi piace come gioca con l'SMG e in questo caso infatti se metti la cam su Luca magari anche più di una morte guardi come se la gestisce su questa postazione poi dopo switchi e guardi come se la gestisce un altro ruolo su un'altra postazione secondo me dal punto di vista di chi hosta il podcast potrebbe essere più magari più piacevole assolutamente infatti vediamo morte di Luke però arresta se Luca muore va appunto nella direzione dove è stato chillato esatto dove è morto prima infatti fa proprio il giro vediamo ora peccato da dietro contro giro viene spona sempre bene comunque viene ottima ora aiutato da Hande vediamo si va a riprendere completamente la postazione andando a chillare Metti adesso adesso dovrebbero ruotare nei NXG nella prossima postazione quindi mi aspetto che Luca appena sponni corra infatti abbiamo Meg che è vicino alla piscina però viene chillato intercettato da un avversario vediamo Duke Luca che resta dietro e va a chillare appunto la persona che stava dando fastidi e veniamo direttamente in mezzo con Carisma che sta tenendo veramente un po' tutto mette intanto serie di 4 R per lui Luca in serie di 3 anche lui potrebbe potrebbe fare le scorestreak da una kill vediamo se riesce a confidizzare ne vede due manca un assist alle scorestreak vediamo lo vede va a prendere la R M8 e arrivano in due peccato mette intanto serie di 6 Mattiz 6 kg di fila elicottero elicottero oh mio dio questo ragazzo cosa ha creato continua serie di 7 infatti scappa scappa si rifiuta di morire vuole fare centralmente logicamente 6 secondi dalla fine della postazione vediamo il resto su di lui vediamo quando deciderà di disfizzare il stand shopper ecco elicottero subito ecco questa scelta non è molto intelligente da fare secondo me perché se tiri l'elicottero in questa situazione gli avversari a meno che non siano stupidi si concentrano un attimo per abbasserlo e continuano poi a tirare tranquillamente e centralmente per non da esatto non ci sono ripari non ci sono ma soprattutto io continuo su Matti con la camera in questo caso perché per vedere come gioca come ha pensato l'elicottero anche perché essendo centralmente o pensi di abbattere l'elicottero o mi dai minimo minimo dieci punti sì ma diciamo che una scostrica come lo style chopper utilizzata in alcune circostanze tipo a fine partita può rendersi molto molto più utile di utilizzarlo nell'ultimo hard point o nel minuto mancante della partita visto che sia in situazione di vittoria sia in situazione di sconfitta se utilizzi l'elicottero nell'ultima postazione gli avversari si dovranno concentrare o sul distruggerlo o sul ignorarlo e cercare di recuperare se invece se invece se invece stai perdendo l'elicottero sarà comunque una distrazione per loro perché perché comunque devono decidere di lasciarlo in cielo e cercare di vincere l'elicottero infatti cerca un po' metti è andato con l'elsorm infatti è andato a controllare intanto però non riescono colmano un po' il gap relativo perché sono 132 per 110 purtroppo Luca un 918 non so ho visto adesso lo score Luca 918 non mi sembra stia giocando molto bene però non è che lo score non dice mai tutto non racconta mai la verità perché alla fine 132 117 e i God Sprague hanno utilizzato la score streak che penso sia più influente in partita che cioè l'elicottero e nonostante Mattis sia 27 10 cioè quasi triple positive lo score rimane abbastanza tirato qua insomma 10 punti avanti e non e non mi sembra che la partita sia per niente chiusa ma poi ricordiamo che Best of 5 in ex in vantaggio di 1-0 per aver pinto la winner intanto direi di andare su Anderx in questo momento attenzione viene killato con una flashbang come su Lurkman io direi che veramente in questo caso i God si stanno tenendo bene sono veramente riuscito intanto Ninja Hellstorm per lui attacco Fulminio sì sì penso che non solo lui abbia le scorsi salvate penso anche Mattis attacco Fulminio mi resta quello intanto vediamo si stanno cercando di cambiare Ninja intanto Charisma già come potete ben vedere a questa del punto successivo 10 punti di stacco a 2.40 dalla fine attaccano tutti a campo su Anderx in questo caso attaccano tutti il rush da un lato sul lato destro purtroppo la situazione per i Next Gaming non è delle più rose in questo caso stanno stanno cercando di pushare tutti dal lato di rosso che non è il modo più facile per rompere la postazione di garage avrebbero dovuto un po' splittarsi e cercare di andare da lati molteplici in modo da spiazzare la loro difesa dei God Tragger adesso i Next Gaming si giocano tutto sulla postazione di basket che si perdono anche solo per pochi secondi e i God Tragger hanno 3 scorestreak che abbiamo ninja con attacco fulminio e a hellstorm e metti con infatti attacco fulminio tra i miss a hellstorm scusate attenzione si fa la doppia però separata dalla score buona ancora dei nxd però scorestreak che arrivano dal cielo adesso l'unica cosa che devono fare gli nxd è entrare in postazione non fregarsene totalmente di quello che sta succedendo intorno e cercare di resistere può dare davvero il colpo di grazia vediamo come cerca di comportarsi ma contende penso che stiano aspettando per il pinch infatti pinciano e rompono la postazione ma ninja ha un fulminio adesso va con fulminio vediamo che succede fa un solo danno attenzione questo è un piccolo ciò che luca claccia per il suo team accoltellando l'ultima in postazione oh mio dio cosa ho visto potrebbe essere la tripla decisiva perché con questi punti andranno quasi in pareggio e stai giocando tutti all'ultima postazione vediamo chi ha scorestreak di loro nessuno ha scorestreak nessuno dei due team ha scorestreak però luca è una kill al pallare attenzione 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 luca c'è l'opposizione attacco fulminio vediamo adesso 192 199 e tira subito non riesce si infatti mi sa che hanno vinto hanno vinto i anek sul rotto della l'anek a meno di rossi abbiamo anche adesso di un cart con fulminio c'è che hanno tutti ascolti che non è possibile le tira oh mio dio i anek erano sotto di grande di montone di 70 punti anche l'ubman come potete ben vedere invece di usare letto mi ha fatto mancavano di gioco vero che stava stava facendo uno score come hai detto tu non felicissimo però ha fatto un qualcosa di straordinario a partire dal crutch dalla chicca con la gualtellata e poi è andato a prendere le serie e poi ha aiutato anche da Duke sono riusciti a ribattare la situazione diciamo che sì la differenza sostanziale tra un top player e un giocatore normale è che il top player può giocare bene male ma nel momento in cui deve fare qualcosa importante lo riesce a fare diciamo e nonostante le 42 kill di qualcuno dei che poi ha giocato benissimo forse un po' casomai eventualmente da di squisire sull'elicottero o meno perché lì forse è a pareri era una cosa a pareri può andare bene può andare male perché ci può a diverse intesa diciamo che Mattis mi sembra di aver visto maestri giocare da ancora e Mattis giocare da slayer con l'AR ma non è proprio Mattis con l'AR ha collaborato ha collaborato diciamo alla parte slaying ma non alla parte objective a quanto pare la parte objective è stata molto più a termine il team di Luca soprattutto Luca nella postazione di basket è allucinante la tripla di coltello sull'ultimo rimasto se fosse morto lui sarebbe stata partita persa ha deciso di giocarsela sul rischio e ha pagato la decisione ha pagato e comunque a questi livelli un giocatore che ha giocato in Europa e si è confrontato con top team e si vede soprattutto in queste situazioni Luca è stato comunque un giocatore che l'ha gestita bene in alcuni casi in LAN ha utilizzato le sue conoscenze per vincere questa partita che diciamo non do tutti i crediti a lui ma penso che diciamo questa vittoria i suoi compagni la devono dai insomma forse mettiamo così per scusate una partenza un po' incerta all'inizio si è rifatto la grande allora 2-0 per NX Gaming Best of 5 quindi perché già erano in vantaggio 1-0 per quanto riguarda per aver vinto la Winner Bracket quindi se dovessero un match point in questo caso per quanto riguarda in X Gaming andiamo a vedere poi Duke Man che poi si è andato a mettere W da notare sì penso anche lui sia stato molto felice di quello che ha fatto vediamo Rush Duke Meg che è il primo SMG per lui per un rush consistente su B Luca che guarda dietro con SMG 3 che vanno su avviene che la protezione da Ninja che è quello eccolo qui lui che ha fatto il giro Meg intanto perde la vita anche se dirlo così è brutto arrestano Duke e Andex vediamo io guarderei Andex una kill di fila con la R vediamo Andex un attimo Andex che ne ha due che è davanti uno e mezzo Carisma e Ninja di fronte a lui in questo caso adesso la scelta è decidere di piazzare oppure andare a cercare lui decide di piazzare è molto intelligente secondo me però un po' rischio perché il suo compagno non gli sta comprendendo praticamente nulla eccolo lì il primo lo kill era Carisma vede anche il secondo sul chiamato del compagno resta solo Duke si rimane da solo tra l'altro sta disinnescando deve correre perché sta disinnescando invece no Grande Ninja che attende ha fatto la mossa giusta Ninja e penso che abbia sbloccato l'RCD con questa bomba disinnescata esatto 1-0 quindi buono hanno anche una scolstrica al primo round già mi sembra che qui vedi non è andato direttamente a disinnescare cosa che esatto anche perché poi Duke era ferito quindi è un po' scontata la mossa di Duke di uscire dalla poteva rischiarsela un attimo era one shot poteva andare un attimo riprendere la vita e provare a saltarli dal centro però vabbè se questa situazione non lo sai mai quindi è stata sfortuna diciamo non poteva fare altro poi dirlo dirlo dal coltac guardando la minimappa è un po' come il calcio no poteva fare così ma dal campo è un po' diverso intanto vediamo ninja che ne ha di fronte subito uno che è proprio lukeman in questo caso intanto Duke è dall'altro lato ha di fronte ora ninja andex vediamo come decide di agire lo vede subito ninja 4 kg di fila 5 5 di fila siamo su di lui siamo su di lui esattamente oh no vedo un altro ancora oh mio dio 2 0 6 kg di fila ea un elstorm ma soprattutto vediamo qui seconda chi il cam di fila molto questo qui mp7 a me ma sai che stavo pensando a questo stavo pensando che ho visto molti player passare all mp7 si è un'arma diciamo che abbastanza consistente soprattutto in lan diciamo che ha un rato di fuoco alto ha un impatto forse deve essere un po' più preciso una presentazione dei muri elevata si non è precisissimo però quando agganci con l'automira rimane fermo quindi basta solamente imparare un po' come da gestire il rinculo e poi è un'arma abbastanza facile da usare c'ha 40 costi quindi il motagagone tiocchierisma che fa il giro lo giocavo su di lui ah però Andex si è molto versatile intanto il mondo sta andando a piazzare dall'altro lato io non capisco perché Duke usa queste sport trick veramente io non capisco veramente Duke queste sport trick dovrebbero essere quelle di postazione dovrebbero essere quelle di postazione si ma nonostante tutto anche in postazione io non userei macchina da guerra da elicottero intermeg in questo momento va a piazzare non capisco Andex alla posizione infatti si trova a 2v1 mag attenzione sta rischiando tantissimo molto incerto infatti viene killato Andex è rimasto lì contro 1 contro 1 che come potete vedere dalla minimappa si è portato al disinnesco perde tempo e credo che oh mio oddio la fa la fa la fa la fa mamma mia chi è stato è Andex non ha cercato la bomba non so se dire che è colpa di Andex o se è un good play da parte di Carisma però fatto sta che il round l'ha vinto Carisma e nella storia c'è andrà lui quindi va bene così intanto vediamo proprio killcam da parte sua andiamo a vedere un po' i valori perché poi abbiamo ninja 6-1 dalla trovata abbiamo però Andex 4-2 andiamo ora al si io dopo 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 per fattere a Luca sto notando che nonostante tutto è andato male è andato male anche adesso forse si sta tenendo le scuole intanto ninja si ma in una situazione 3-0 si dovrebbe sbrigare Asarle il prima possibile senti vediamo prima che gli altri vincano anche solo un round potrebbe essere troppo tardi un round cambia la partita a volte dal punto di vista mentale ritorniamo proprio su ninja in questo caso intanto abbiamo occhio meg che fa il giro e va proprio su ninja e va proprio su ninja attenzione e ha fatto il giro ancora meg e beh resta resta solo loopman in questo caso ero passato completamente alla difesa che hanno provato di nuovo a fare il giro intanto come potete vedere carisma va a a plantare la bomba è stata piazzata si si questo round diciamo che potrebbe essere tranquillamente vinto dai ghostbrag infatti vinto che il cap permetti 4 0 attenzione risultato importante per i ghostbrag questo emblema di martin better than you ultimamente guarda ho fatto uno streaming su ps3 tutti avevano ciao mamma è stato divertentissimo la cosa ciao mamma comunque c'è da dire che c'è da dire che ninja non vuole usare le scorsi che continuano a correre in faccia agli avversari infatti ti dà ragione attenzione e ce la fa e ce la fa la doppia andiamo su andex o poi tu resta solo lui andex uno contro tutti cosa sta succedendo nella visuale di andex vediamo subito di fronte ai maestri sopra sarebbe dall'altro lato bomba persa sembra che non se ne siano accorti so perché questa classe di andex penso che forse non abbia cambiato le classi di posizione abbia preso un po' e si cercano di più la leggera dicendo vabbè intanto un vinco facile invece a quanto pare lo sta piando al culo ma tutto il suo team detto proprio un francesismo inerente al tema dell'SVG che ricordiamo si giocherà in Francia qualificazione parere games week che il attenzione attenzione great shot 5-0 arriva la bersaglia da dietro ninja in questo caso 5-0 ninja ancora king killcam fisso lui questo ragazzo veramente non si sta regolando e ancora l'isling credo la macchinina quindi aspettiamo che un 5-0 è quotato bello bello alto in gergo basso anche il 6-0 beh macchinina non l'ha proposto il 6-0 è quotato basso vediamo luca che no luca fa 1-5 perché sta giocando bene dei andex però si ha 10-2 rimango su ninja a questo punto vediamo quando userà le scorestreak però se la rischia sempre troppo secondo me potrebbe prendersela molto più con calma e tirare le scorestreak che quando era avanti invece sta andando un po' sempre in giro boh non vuole il 6-0 evidentemente pure adesso si le tira le tanto che Risma va giù a tezzella prof una cosa intelligente per inerente ai turni precedenti però questo momento non paga intanto Duke su Mettis gli passa davanti Duke lo kill proprio troppo di coda da parte di ninja serie d4 in tutto questo però è in mezzo perché maestro è in mezzo è un tornato da avversari non so perché ninja sta cercando cioè ninja sta andando in giro e maestro è un po' staccato da lui dovrebbero un po' agire verso la bomba per 30 secondi dalla fine non ci stanno minimamente dirigendo verso nessuno dietro e di gioco fortunatamente trova il gioco che camminano in mezzo mappa un po' tutto ancora continuare in ragazzi incredibile non ho parole anche se dentro un altro può claccia fondamentalmente 4-0 gli portiamo sfiga resta dietro non capisco veramente cosa stessero pensando 5-1 perché finisce giustamente il tempo sì ma non so veramente cosa stessero pensando questa azione di ninja è stata veramente totalmente casuale non so veramente perché è accaduto questo però guarda se avessi chilato handex cioè fate fuori tu sì sarebbe entrato nella storia come quello che va in giro e vince dalle partite sì nel senso sì vabbè però comunque rimane il fatto che l'azione più intelligente e più sicura sarebbe stata quella di andare a piazzare e poi farla finita subito vediamo se costa raccara attacco per no credo che vediamo credo che comunque sul 5-1 13-3 per ninja vediamo se ti lascia benesse scorse che dove sta ninja sì va eccolo io vado proprio su me in questo caso infatti killa proprio me che lukman ninja doppia andiamo un tuk anex che che fa killare maestri dall'altro lato della mappa attenzione restata solo ancora una volta e carico con l'rc 6-1 penso ci siano state 17 kg di ninja quante se ne è no 17 no però 16 credo vediamo 16 kg di ninja che per un certo punto si pensava che stesse giocando pubblica non lo so stava in giro ricercava 16 kg voleva lo store sì ma anche i compagni vi hanno vi hanno gli hanno dato il golo code per questa cosa gli hanno dato man forte comunque volevano che lui infatti infatti allora vediamo ora come come la storia 2 a 1 per quanto riguarda i next gaming che stanno vivendo un piccolo deja vu perché è successo esatto è successo che andate a vincere la prima postazione siamo portati su 2 a 0 e poi pian piano si sono fatti recuperare andando addirittura a perdere il 3 a 2 con trilogiche che venivano appunto dalla loser bracket quindi occhio vediamo non è che gli voglio portare se occhio a non rifarlo cattura la bandiera su standoff soprattutto a livello di morale non a livello non si discute la qualità ma soprattutto a livello un po' del morale del team che appunto insomma incide tantissimo non so se l'altro otto abbia inciso qualcosa però da quello sicuramente ci sarà stato nel nervosismo poi perché cose normali che capitano vediamo se siamo per partire infatti così è quindi 2 a 1 per i next gaming sui golf rag che vi ricordo che i next gaming sono partiti per favore del risultato per aver vinto la winner bracket sull'1 a 0 hanno vinto 226 119 sul ride con uno sprint di look man quindi colpo di coda da parte del team di next gaming e poi grandissima prestazione per quanto riguarda ninja si dice succede il metdown ha chiamato la possibilità ai golf rag di partersi 1 onestamente adesso se fossi nei panni di nsg mi giocherai questa mappa come se fosse l'ultima della loro vita perché non vorrei non vorrei veramente andare a cercare distruggi finale dopo che i golf rag vincono due mappe di fila perché il loro molare sarà cento volte più alto assolutamente figuriamoci poi quello di ninja che io direi di andare proprio su ninja aspettare un pochettino su come si comporta perché nei favori diciamo intanto carisma è quello che sta dettando legge in questo primo che va occhio vicino alla bandiera serie di 5 attenzione viene ferito vediamo cosa vuole fare va sopra la casa ancora contornato da avversari sta cercando il supporto dei compagni niente da fare resta sopra e lo trova trova il buco vediamo cosa succede addirittura l'RC spona metti davanti a lui mi fa il giro stiamo vedendo che è già una scorsa vediamo occhio si trova un avversario davanti dovrebbe essere se non sbaglio questa cosa dico ma nulla da fare ruba bandiera per carisma e miss il storm e attacco filminio per lui io direi comunque di restare ancora su di lui per vedere carisma full streak si dimentica di togliere la macchina perché altrimenti avrebbe anche la macchina da guerra tra una kill giustamente peccato vedeci che non va e io questa cosa non me la ricordavo completamente viene inchillato occhio Duke che prende bandiera va a killare un avversario cerca un po' di scoraggiare il morale degli avversari da solo continua si trova occhio però carisma di fronte troppo sta andando a correre la bandiera e si proietta in attacco vediamo no assolutamente ritorno indietro occhio però sono quasi tutti morti la decisione di Andex infatti Metz ne approfitta va a prendere si trova fra poco Andex proprio di fronte viene killato Andex serie D4 restiamo su di lui ma carisma colpo di coda da parte di carisma che va appunto mettere fine alla serie intanto pure Ninja stesso discorso la macchinina dimenticata un po' tutti con la macchina invece c'è questo cartello della bandiera andiamo chi sarà il primo poi a cambiarla se hanno già le classi giustamente le avranno classi già tutte fatte occhio però a Lukeman vediamo killo un avversario resta da solo con la bandiera ne vede un altro attenzione viene strunato va sopra si buca dall'altra parte sta cercando l'aiuto di Duke oh no non ce la fa vediamo Omega però resiste niente metzi si va a recuperare beh direi molto molto strano catturare la bandiera un po' tutti all'arrembaggio occhio che sono tutti morti i Godfrag però sono troppo lontani i Nexa per approfittarne in questo caso si chiama Lukeman che va molto convinto verso la bandiera un minuto e venti dalla fine 1-0 1-0 1-6 io veramente sarei molto sarei molto incazzato con me stesso non dovessi perdere questa mappa forse nei panni di Yannick perché già è successo una volta che contro i Logic hanno spiegato il vantaggio adesso sono di nuovo 1-0 sotto e manca un minuto alla fine del primo round si devono si devono svegliare devono mettersi in testa che questa partita vale più della prossima perché se perdono adesso dopo si che poi puoi sapere una cosa bella qual è che loro già hanno vinto contro i Godfrag 2-0 quindi ma in questo momento mi sembra che la situazione non sia delle più rose perché full streak per carisma e una flag sotto non è proprio scherzo nel senso non è ma carisma non è full streak questo del lighting comunque gli manca l'elstorm che posso fare una flag possibile che potrebbero prendere se giocano bene io ne qui che poi non capisco in questo caso stanno un po' rischiando anche i Godfrag infatti vedete Ander è disturbato attenzione sono tutti morti per i Godfrag in molto Andex dovrebbe prenderlo lo vedo laggare attenzione lo vedo laggare lo vedo laggare tutti quindi spero di non cadere io in questo caso attenzione infatti Mr. Hellstorm mancato Andex non ce la fa 1 a 0 un tanto 200 punto ho visto completamente un lag totale spero che non ero io io penso fosse stato nel cambio IP dell'host che forse ha inciso sul risultato di questo side perché mancavano 11 secondi se Andex non avesse laggato sarebbe corso in cubo avrebbe attivato l'elstorm attaccandosi al muro e forse avrebbe portato la flag però vabbè rimane rimane online e quindi se ando online queste cose succedono purtroppo magari incidono il risultato di una partita ma se ando credo che non sono torneri infatti assolutamente infatti qua online non si sa che ti deve accettare infatti vediamo che Cam in questo caso su Charisma che ha completamente esaurito Restrict intanto sta aspettando Meg che stava cercando di salire beh in questo caso cosa si dovrebbe fare perché io abbedo un po' in palla in NXG secondo me NXG dovrebbero pushare in maniera concreta un lato della mappa senza assolutamente fregarsene dell'altro e cercare di comunque prendere il controllo della mappa facendo le kill senza mantenere il controllo su tutti i punti però li stanno stringendo occhio perché io ho mostrato su Charisma però sto vedendo intanto Ametti che va a stringere perché poi sta arrivando Messi da quest'altro lato li stanno completamente stringendo occhio però fortunati perché viene scuola però Ametti potrebbero portarla questa freg va a prendere una bandiera aiutato ad asportare la ninja li ha veramente bell'azione a parte di golfragge che sono andati a stringerli però vediamo ora come cercano di arginare l'errore fatto serie di 5 per quanto riguarda ninja nulla da fare killato dietro da duke che fa disturbare hand scusami Mettiz e Anderx che lo fa killare non ho non ho veramente non so perché cosa è successo qua ma c'è stato un choke da parte dei golfragge che avevano 4 morti flag praticamente presa e non sono riusciti a portarla perché hanno lasciato aperta un lato della mappa dove sono infatti poi tutti i nxg hanno effettuato questo ritorno sull'ultimo del rasoio mi dispiace per loro però in un certo senso sono felice per i nxg che hanno ancora la possibilità di pareggiare mancano 2 minuti e 50 ce la possono fare se non la mette vedersi intanto c'è mag che addirittura per figlie centrali se ne va sta rischiando sta rischiando oh mio dio scappa in questo caso vediamo bandiera ancora lì scappa mille colpi luca da solo oh occhio oh mio dio oh mio dio tutto che ha fatto vediamo se riesce la magia da parte sua incertezza e va sull'1-1 mamma mia mamma mia incredibile incredibile che ha salvato la partita anche perché poi si era completamente buttato un avversario che non ho visto non ho avuto il tempo di vedere chi si si stava c'è rendo il fine per il recupero credo mamma mia bellissima azione occhio qui in questo caso andrei su lukeman che è un avversario però non ce la fa vediamo duke si si doppia di duke oh mio dio in questo momento attenzione resta sulla ninja gli nxg gli nxg devono agire adesso devono agire adesso devono farcela devono continuare a mettere pressione sulla base vediamo cosa deciderà di fare duke spona duke è da solo io più che altro spero i compagni glielo abbiano detto via un pochettino c'era ninja da solo eccolo qui infatti ancora da solo ninja 3 kill di fila ninja continua a pushare da solo purtroppo una cosa che alcuni non ricordano è cercare di aspettare il compagno magari quel secondo in più per in questo caso ninja l'ha aspettato tantissimo perché l'aveva tocchiato già da prima vediamo in questa cosa andex che è in posizione più avanzata sta andando sopra infatti vede un avversario non riesce a killarlo lo kill lo kill ma l'ha un po' di colpi lo uccida adesso torna indietro e fa proprio bene e fa bene oh attenzione qui viene killato proprio all'ultimo intanto stavo vedendo il look me l'ultimo rimasto bisogna riprendere a capo a 30 secondi dalla fine 30 secondi spero in uno in uno stopwatch perché altrimenti sarebbe veramente una situazione strana se uno di due team prendesse la flag a destra la portasse diciamo che non non dovrebbero esserci colpi di scena c'è più il tempo materiale quindi si va al round spareggio 1-1 direi che comunque ci stiamo divertendo su questa cattura la bandiera perché è tirato ad importante pesa come un macigno la bandiera questa partita vale vale tutto per entrambi i team quindi questo stopwatch sarà un momento decisivo nel quale deciderati secondo me il vincitore di questa partita quindi nonostante ricordiamo 2-1 se dovessero vincere Next Gaming passerebbero vincerebbero direttamente la bracket quindi si eseguirebbero la slot per quanto riguarda i Games Week se dovessero vincere i Godfrag si andrebbe allo spareggio su postazione quindi un deja vu completo da parte Next Gaming intanto vediamo come cercano adesso sembra che vanno un po' alla cieca davanti 2 sono splittati in maniera un po' errata attenzione camma su Lukeman che fa proprio su ninja dall'altro lato come potete vedere Andex che sta effettuando il giro ci sta riuscendo però sono sponati gli avversari attenzione ne ha uno giù e Maestri lo va a killare attenzione Andex che ce la fa recuperare la bandiera vediamo come si comporta cerca di depistare un po' gli avversari con un Semtex lasciato lì però arriva peccato peccato per Andex aveva avuto una buona idea peccato che ce ne aveva uno dietro e non se ne è accorto con Andex se vediamo cosa fa spona e decide di riprovarsi ecco questa questa cosa che sta facendo può essere può essere vista in due modi il modo positivo è che magari sta distraendo gli avversari ma il modo negativo il punto di vista negativo è che magari adesso si è da solo ma nonostante si è da solo ha creato veramente ha creato la distrazione ha creato la distrazione e Luca però ottio Luca che si trova chrisma davanti riesce a killarlo mamma mia però il resto e dopo questa kill mi aspetto che la flag venga portata da Luca continua vediamo se non c'è una centrale sta indulgiando un po' troppo forse gli hanno chiamato adesso adesso c'è si è andata in posizione di clash per la flag eh l'hanno imparo perché è stato chiamato si fa una kill fa una kill importante questa kill oh mio dio l'ho visto brutta in questo caso e credo che credo che per ora per un bel poco sì 2.44 dalla fine spero spero per per entrambi i team che la riescono almeno a riportare prima di questi 2 minuti e 20 che mancano perché nel caso finisse il tempo con 0-0 qui poi dopo allo stopwatch finale che consiste nel primo che la prende vince che a volte secondo me è un po' unfei è un po' un po' alla caso perché il primo team che la prende la porta ecco ecco qua no yuk l'aveva quasi ripresa peccato adesso ci si pensi andex è da solo contro la flag ma ovviamente non la puscia perché ne ha uno di fronte sta difendendo con i denti vedete serie di 5 penso che Luca abbia le scorse che penso l'abbia detto le vuole usare per il recupero lo dice i compagni attenzione vediamo come si comporta riesce ad andare all'interno della casa proprio in tempo adesso Luca c'è uno nel virgoletto di nuovo due nel virgoletto di nuovo oh mio dio decide di decide di anzi lo uccide no cerca il carisma uccide carisma sullo spawn attenzione no e nonostante tutto 0-0 perché si sono ripristinati le bandiere di tocca rifare tutto il lavoro diciamo che Luca ha spregato un po' le scorse in questo caso vediamo un pochettino infatti la bandiera intanto io stiamo laggando eh Luca uccide il portatore di flag ma rimangono sempre in questa situazione difficile Duke uccide carisma che cosa sta succedendo non capisco un caos totale la flag dei 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 è fuori dalla base non si sa chi ce l'ha c'è la Duke Duke sta cercando di rimanere vivo è tutto possibile Duke passa davanti a uno dei godfrag oh mio dio non lo vede oh mio dio la può portare è sua 1-0 quindi c'è tanto tempo adesso prossimo round c'è tanto tempo sì per i godfrag c'è tanto tempo quindi i 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 andrei in difesa è un po' un decidere di perdere io adesso la giocherai sul fatto che Duke è vicino alle scorse e che se riesce a farle è praticamente c'è una vittoria in tata Duke Duke dovrebbe camperare per farle assolutamente Duke dovrebbe è la chiave della vittoria in questo momento infatti dovrebbe veramente che cercare di rimanere vivo e conquistare questo lightning e poi ricordiamo che Duke metta in macchina da guerra sì però macchina da guerra non è importante come un lightning in CTF sicuramente il lightning è una flag stoppata sicuro attenzione lo ferisce lo dovrebbe dire ai compagni un assist potrebbe farli prendere lo lightning anche solo un assist tipo per questo non è troppo far compagni l'amore nel città lo prende, lo prende, lo dovrebbe essere adesso, dovrebbe usare, lo dovrebbe usare lo usato non lo usa, non lo usa, vediamo non lo usa, ricerca di usarla e non lo usa sbaglio attenzione carisma occhio ragazzi occhio perchè abbiamo andaX che può salvare caro e cavo uuu attenzione bandiera ancora lì ninja chi l'ha andiamo a metti e bandiera presa, parte di venti, ancora! Duke che fa una grande... no, non era Duke, però 1-0 Duke sbaglia, Duke sbaglia, diciamo questa sconfitta è totalmente a causa di Duke vediamo qui, verso chi fa totalmente a causa di Duke, aveva giocato perfettamente era Meg che aveva chiesto però non ha sfruttato il Lightning, non ha tirato il Lightning non ha tirato il Lightning, questa cosa ha costato al team per lo meno la sconfitta in questa situazione, magari avrebbero perso lo stesso magari avrebbero perso lo stesso, ma questa situazione era facilmente risolvibile bastava tirare il Lightning, Duke, bastava tirare il Lightning questi sono i motivi per il quale un team perde dei motivi che sembrano stupidi quando li vedi evitato in questo caso, perché cosa è successo ragazzi? siamo... sul 2-2 adesso, in questa situazione non vorrei essere nel party degli NXT non vorrei essere nel party degli NXT veramente... veramente una situazione delicatissima gli NXT si sono fatti conveccare contro gli OGIC stanno per essere conveccati di nuovo dai Godfrag e io dopo una sconfitta del genere e io sono diventato ultimamente uno dei migliori cultori dei modi più divertenti per perdere sono veramente un grande rappresentante e tra i modi più divertenti per perdere questo è stato veramente uno dei più veramente uno dei più belli che avevo visto e forse supera addirittura il mio modo di perdere però... quante volte ti è capitato giustamente nella tua... nel tuo inizio, no? eh... perché... eh... esatto... è l'esperienza, è l'esperienza quante volte ti è capitato, no? a dire... cacchio... mi ricordo anche io quando facevo questi errori eh lo so, lo so... per quello lo dico perché... visto che li ho vissuti neanche troppo... troppo... troppo tempo fa l'ho vissuti veramente poco tempo fa e mi sono rimasti abbastanza... anche perché parliamo comunque di... eh... cioè postazione è una modalità che è di quest'anno quindi... eh... sì, postazione è una modalità di quest'anno ma... eh... credo che adesso ci sia chat no, adesso è postazione... no, adesso è postazione, in questo caso cattura la bandiera, scusa... ehm... diciamo è riscata un po'... l'anno scorso era solo cattura la bandiera quindi... che errore su fatti, dimmi... no, ma... scusa... no, ma non era... la seconda mappa non c'è postazione... allora... ehm... deve essere postazione... no, adesso di nuovo postazione perché... sì sì sì, è classico perché è vero che sono partiti con una... l'1 al 0, però sono partiti con postazione... hai ragione, hai ragione... ah sì, ecco... ma che tu sei andato direttamente a 100% sì sì... no, perché best of five non avevo contato la mappa di vantaggio, scusa, scusa... vabbè, comunque è vero, postazione è una modalità decisiva quindi... sicuramente una modalità veloce che potrebbe favorire... loro, gli NXT che hanno già vinto la prima postazione... se fosse stato Chad io avrei... tranquillamente puntato... i miei 100€ su... sui Ghostwag... però... questa postazione potrebbe riaprire, diciamo... la possibilità a questi NXT che sono arrivati vicinissimi e l'altra volta e sono vicinissimi ancora... possono qualificarsi a questa benedetta LAN ma... ma anche perché... hanno l'ultima chance, eh... ricordiamo l'ultima chance perché... sì, se questa è l'ultima chance... dovrebbe essere importantissimo per loro questo momento... nella loro carriera di videogiochi... di videogiocatori... questo è il momento più importante che abbiano mai... che si siano mai trovati davanti, perlomeno nell'ambito del deserto... non so se hanno fatto tornei... per quanto riguarda Juke... però io... guarda... se dovessero... comunque... se dovessero vincere... i NXT... grande prova alla loro... perché stanno vivendo un déjà vu molto forte in questo momento... quindi... sì, sì... se dovessero vincere... veramente un colpo di... un colpo di... di... di classe, diciamo... perché si toglierebbero da questa situazione che li sta veramente... eh... attanagliando da... non si sa... dai logic... dal momento in cui i logic li hanno... questa situazione li sta perseguitando... ecco... quindi devono riuscire a uscire da... riuscire a uscire... è brutta da dire... però... si dice... da questo tunnel di... di comeback... che subiscono... in queste... cazzo di cap... che fanno per... per questa qualificazione che... veramente sta diventando un incubo per loro... anche perché poi... comunque... non è che... parliamo comunque di bravi giocatori... ne abbiamo avuto dimostrazione... e... forse qui... quella... però non riescono a concretizzare... sempre quei discorsi che facciamo io e te... sulla testa... no... sul... eh... sulla pressione... perché alla fine è tutto lista... no... nella pressione di... è vero che... stiamo giocando un videogioco... però... eh... per questo è stato... in America è stato dichiarato completamente uno sport... e che in questo momento... anche se un gioco... ci sta divertendo a rubare... questo è... è serio... ci sono delle pressioni... ci sono delle pressioni... videoludiche... per quanto riguarda NXG... che poi... che poi in LAN sono moltiplicate... alla... assolutamente... assolutamente... la pressione non è... per niente come il LAN... quindi... magari online... il più debole può vincere... perché in quel momento è più motivato... il LAN è il più debole... che è più debole sulla carta... e non sa proprio cosa fare... a livello del gioco... non può vincere... vabbè... LAN vinci... anche con la testa... sì... però sicuramente... se qualcuno sa giocare il gioco... meglio di te... anche se la testa è positiva... il gioco... lui lo gioca meglio di te... intanto è uscito... un... che dovrebbe essere... Magic... cosa del genere... io prevedo un cambio... rapido di DNXD... io prevedo un'entrata di... di Ghost... perché penso che... Magic sia stato un pick-up... penso che se Ghost entra... e... lo svolta... potrebbe essere veramente reale... beh... potrebbe essere... diciamo... il giocatore che subentra... e che dà la carica... in questo caso... mi sento... casamai... un cambio ci sta... ci può stare... e soprattutto... un cambio... anche morale... si si... quello è più importante... di tutti... in questo caso... dovessi andare io... a giocare con loro adesso... la prima cosa che direi... intanto infatti è... ma che cazzo... famo qua... tocca vince... sbrigamo se... forse questo è il limite... dei team da quattro... no? che in queste situazioni... non avendo un cambio... casomai... deve continuare... perché può capitare... a tutti... serata no... ecco... c'è la serata no... e può capitare... a tutti... un cambio... forse... in... in quel frangente... può fare la differenza... forse questo è il limite... dei team... sempre quattro... quattro e quattro... l'unico limite... perché poi dall'altro... c'è il vantaggio... di giocare sempre insieme... sempre i soliti... e quindi... di conoscersi alla perfezione... forse è l'unico neo... ecco... dei team da quattro... io... nella chat... nella chat... leggo che uno ha scritto... uno non entra... un pochettino... perché c'è un canto... non lo so... possiamo... vediamo se... riescono a rifare la stanza... vediamo un pochettino... sicuramente si saranno... centenni giocatori... tra di loro... un po' grande... comunque... attesa per... questo... questa postazione... decisiva... ragazzi... veramente... decisiva... il tutto per tutto... si gioca... qui... sia per i Goldfrag... che per... e quanto... quanto mi dicono... gli NXT... dovrebbero... ritrovare con Magic... ma penso... ha risettato il modem... vediamo... un pochettino... aspettiamo Magic... quindi... confermiamo... Magic... ha risettato il modem... sento... essere risettato il modem... so... veramente... stiamo aspettando... ragazzi... quindi... ricapitolando... vantaggio... infatti... è ritornato... credo che sia Magic... andiamo a vedere... un pochettino... sul sito... perché... logicamente... mi è venuto... questo dubbio... è un po' difficile... questo momento... andare... a... controllare... comunque... ricapituliamo un po' il tutto... abbiamo... ricordiamo... già... ero in vantaggio... 1-0... in X Gaming... per aver vinto... la Win Bracket... si ritrova in vantaggio... 2-0... andando su... impostazione... 226... a 119... su Ride... con... grandissimo... sprint... da parte del team... con azione di Hulkman... poi... invece... abbiamo avuto... un 6-1... dei Godfrag... su Chad... Meltdown... con... grandissima... mappa di... ninja... che si è sparato... un 16-3... e poi... un 1-0... appunto... su... eh... su standoff... su teatro della bandiera... in questo caso... un 2-1... scusate... per... quanto riguarda... appunto... eh... i Godfrag... e quindi... adesso si assiste... all'ultima mappa... essendo Best of Five... quindi... postazione su Slums... si... eh... Luca ma... è l'ultimo... credo che... aspetta un attimo che... boh... forza... un attimo a parti... per chiedere a Capitano... Luca... cosa... sta facendo... perchè... non so che cosa... mandagli un messaggio a casomai... così... vedi... mi sembrava che... raga... scusate... c'è Magic che continua a cadere... stiamo... stiamo chiamando Ghost... stai provando ad entrare con l'account... si... vai con calma... non ti preoccupare... vai con calma... ok... grazie raga... grazie... grazie... bello... bello... intanto... un attimo di pausa... anche per noi... prendiamo giusto... una pausettina... grazie... 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 ma intanto... ragazzi... stiamo aspettando... Magic... perchè... sta avendo giusto... un problema di... connessione... quindi... stiamo aspettando un po' di farlo rientrare... con calma... siete un po' pazienti... perchè... logicamente... vogliamo... adarsi... in grande stile... all'ultima... all'ultimo round... impostazione... su Slums... per quanto riguarda... appunto... questo Q3... vi ricordo che... il Q4... verrà... giocato giovedì... sempre... alle 21... quindi... restate comunque... sintonizzati su... su SL Italia... appunto... per... con... continuare a seguirci... in modo tale che... riuscite anche a vedere... l'ultimo streaming... per quanto riguarda queste qualificazioni... per le SVC... vi ricordo che si giocheranno... a Parigi... non prima di passare... appunto... queste sono le qualifiche... per il Games Week... che si ranno... in... 25... 26... a... 25 e 26... a Milano... dove ci sarà... appunto... quattro team... che si scontreranno... tra di loro... per decretare... l'unico team... italiano... che si andrà a giocare... i mondiali... a Parigi... quindi... grazie a SL Italia... che ci sta dando... questa opportunità... di vivere... di far vivere... a voi giocatori... un'esperienza del genere... e soprattutto di vivere... anche... come spettatori... l'esperienza... del... gaming italiano... della sport... è il gaming... italiano... intanto... ma cos'è il gaming... scusa... vabbè... lo italianizza... e... 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 allora... novità... stando appunto... Magic... giusto... c'è subentro... vediamo... un pochettino... veramente... questa situazione... è imbarazzante... eh... un po' qua... e guardo lo schermo... e dico... dove c'hanno questi? eh... eh... beh... direi... non mi trovo... ma... facciamo un po' di cabaretto... addirittura... guarda... ti direi... uno spot pubblicitario... ahahah... no... no... niente spot... niente spot pubblicitario... ah... quindi... io racconterei una barzelletta... vediamo se ride un po' la chat... allora... la chat... scrivete qualcosa... se ci siete... mi sentite... voglio vedere... la chat esplode... voglio vedere... nessuno che interagisce... vedi... vedi... questo streaming italiano... non vende... questi... questi... non interagiscono... ahahah... ecco... uuuuuh... eccoli... allora ce l'avete la tastiera eh... dimmi minchia... bravi... allora... adesso... facciamo un giochino... racconto la barzelletta... non è vero... perché Magic ti smettisce... dice no... per favore... a costa di venire... però... vengo... e giochiamo... ahahah... ahahah... comunque... la barzelletta riguardava... un certo... ahahah... la barzelletta... la barzelletta riguardava... riguardava un ragazzo che... che va in triple negative... e dice... raga... addirittura... Manu su due giorni che mi dai buca... questo sicuro è Valerio... e... hai ragione... purtroppo... capita... cos'è... che... tra impegni e roba varie... riesco giusto a tagliarmi lo spazio... per venire a fare lo streaming... infatti... giovedì... non sarò io... a streamare... per gioia vostra... ma... sarà... una persona... che dovete leggere la news... per capire chi... sarà... con questa persona che streamerà... giovedì... colga... giustamente... Leonardo... se la ride... e fa bene... ah... ah... vediamo... eh... slums... post azione... verità... verità... io direi di andare... vediamo questi ragazzi... questo caso su Mag... che... incontesa... e... va con la prima kill... ancora incontesa... no... difesa... occhio... Duke... perde... perde... la vita... detto così... ma... viene killato... ecco... intanto... mi lascio dare queste cose... Dentre... io... questa partita... veramente... la sento sulla mia pelle... l'aspettatore... sento veramente la pressione su di me... e... l'aspettatore... perché sento che ogni kill è importantissima... e ogni kill vale moltissimo per loro... soprattutto perché... si... quindi... speriamo che... che la facciano... chi... chi dei due team... ce la faccia... in maniera più pulita possibile... cercando di non... arrivare all'ultima point... per... per complicarsi la vita ancora di più... che... è... davvero deciso... intanto... maestri... serie D4... attenzione... viene stretta... perché... gli altri compagni... restano un po' indietro... andiamo un pochettino... adesso... cam... su Andex... comunque... buono start di Annex... buonissimo start... maestri... non riesce... in questo momento Duke... che è già... l'altro spawn... come potete vedere... è... Scorpion per lui... andiamo... combettino... attenzione... Lukeman... che... eh... si... vediamo ora... come se la cava... Andex... in polizia... non riesce... perché è stretto da... a due avversari... e infatti... deve cedere... la zona... vediamo Duke... che è in casetta blu... invece... si trova... nello spawn... però attenzione... viene chilato da Ninja... che... di prepotenza... rompe... però... nessuno cerca di rompere lo spawn... non riescono a rompere lo spawn... comunque... è buono... lo start di Annex... che vanno in vantaggio... alle circa di 70... di 60 punti... perché credo... alla fine di questa posizione... saranno... quasi in vantaggio... di 60 punti... buono... assolutamente... quando vediamo mestri... che ci stava... posizionare... nella stazione successiva... penso che... questa posizione... sia molto difficile da rompere... a meno che... uno di due team... non abbia riscorsi... quindi... immagino che qui... la situazione... si andrà a portare... sul quasi pareggio di nuovo... prevedo un full 60... da parte dei... gottag... a meno di piracoli... in questo caso... che... sta evitando... appunto... dalla distanza... sta offrendo... gli avversari... che entrano poi... giustamente... nella postazione... vengono filati a Charisma... in questo caso... eccolo qui... lo vedete qui... attenzione... occhio... vediamo... rompono... i Nex... i Nex... andex... mamma mia... cosa ho visto... veramente... un'azione combinata... degna... di un top team... subito... mi sventisco... i Nex Gaming... sono giocando... fuori... di... veramente... Andex... vediamo se riesce... vatti... Andex in serie da 3... vediamo... vediamo se riesce a prendere... le scorse di Andex... perché adesso... questa situazione... sta venendo pusciato... da almeno 2... occhio... uno davanti... non uccide... c'è un altro... peccato... comunque... si... contengono... io già... prima Duke si era portato... nello spawn... è andato a conquistarlo... occhio... contesa... ancora... GAMS VANDEX... in questo caso... viene aiutato... occhio... macchina che a sapere esplodere... deve uscire da lì... e invece... ne approfitta... e ne approfitta... andando all'interno... non deve fare la doppia... un'anomale... c'è un maestri serie di 4... occhio... che sta tenendo lo spawn... da lì... però mancano... ancora 24 secondi... comunque... c'è da dire che... Magic... in tutte e tre le partite... non ha giocato mai bene... quindi... proprio... calma su Magic... andiamo su... penso che... penso che comunque... giocando... così male... diciamo... penalizzi il team... nel senso... non facendo mai a volte... quello che... quello che dovrebbe fare... sta penalizzando un po' il team... però... nonostante tutto... i NGT... stanno in vantaggio... quindi... e... penso che... questo vantaggio... che è assolutamente da tenere... 116... a 73... appunto... NXG... intanto Duke... viene killato... attenzione... andiamo... ritorniamo su Winkman... che prima... mi ha fatto... molto bene qui... posizione della statua... esatto... in posizione della statua... continua... in questo caso... che... infatti provano... con... eh... mettersi ad andare... dall'altro lato... in questo caso... ninja... spawnano lontani... quindi... mantengono lo spawn in X... X Gaming... infatti... che è rimasto lì... attenzione... killato... ... passione localizzata... beh... allora... lo spawn... non riescono a prenderlo... da... vediamo dalla polizia... no... invece... vediamo centralmente... Magic... che fa a killare proprio ninja... vediamo Lukeman... che... alle prese... è una posizione vitale... non so se siete d'accordo... sì sì... Luca è rimasto vivo... nella posizione più importante... in questo Secondar Point... però... eh... scusa se stavo un attimo in silenzio... ma... stavo vedendo un attimo... la... l'azione... combinata... tra Magic e Lukeman... che... ha portato... al mantenimento di questi importanti... 30 punti... poi... hanno cambiato lo spawn... ce l'hanno fatta... a 22 secondi... adesso sono irrotti... sono irrotti... praticamente... tutti i costregg... hanno preso la postazione... ma... in questo caso... questo... questa... questa... questa mossa... ha giovato di più... si... che hanno lo spawn buono... per la prossima... ma... che adesso... dovrebbero resistere... a più ondate... credo che... che è successo su... Carisma... che... che è finichilato proprio... in questo momento... vediamo... Magic... Andex... c'è... uno dei... uno dei... che bene... è nato proprio... come si dice in questi casi... però... è molto bravo... infatti... riescono a riprendersi... lo spawn... adesso penso... vengono tutti da... anche Magic... intanto... serie d4... ha... un kill... ha... un... pochissimo... dalla... elsorm... è... il full ninio... infatti... si... lo prende... ti mentisce subito... Magic... in questo caso... si... è la prima volta... che ha... in 3 mappe... riesce a fare... qualcosa... non è per offenderlo... ma sicuramente... come pick-up... non è il... fit perfetto... del team... di NXG... diciamo che... magari... magari... non serviva un altro giocatore... per giocare questo ruolo... ma... il vantaggio che ormai hanno acquisito... è... è così importante... che penso... che c'è la perroca si fatta... e quindi... 208... quindi... 209... vediamo... intanto... continua... infatti... su Magic... che va proprio... con un attacco fulminio... in questo momento... forse... un po' spregato... in questo caso... si... questo attacco fulminio... un po'... poco utile... soprattutto... in una postazione... come garage... comunque si... mancano pochi punti... alla victoria... e boh... alla fine... tanto per prendersela di sicurezza... però... cioè... non è mai dire mai... assolutamente... non è mai dire mai... però... infatti adesso... se non sbaglio... continuano... continuano a... credono a morire... però penso che adesso... sia comunque... già troppo tardi... è più contesa... però intanto è andato... a riprendersi... non dico che sia... matematicamente impossibile... ma... credo che fisica... a livello... psicologico... mentalmente... non sia possibile... credo che... ormai... almeno... almeno di miracoli... abbiano perso lo sferante... lo frag... sto guardando questo... anche la contesa... sì... non ha più ultimale... credo che... sia... sia... sia finita qua... penso che... sia finita qua... non riesco a parlare... infatti vediamo Andre che... sì... ma l'aiuto di Lukeman... finalmente abbiamo un vincitore... finalmente abbiamo un vincitore... dopo ore e ore di partita... si battita... sì... in questo caso sì... completamente ragione... beh... allora... io direi che... soprattutto... sfatano... una maledizione... in questo caso... eh... gli NXG... che per l'ennesima volta... erano stati a rischio... stavano... per essere rimontati... dal 2-0... al... 2-2... poi... qui... invece... hanno dato... diciamo... hanno messo in campo... tutti i nervi... tutta... tutta la grinta... che serviva... per andare a vincere... questa prestazione... e non... avere un completo... déjà vu... come è stato con i Logic... se vi ricordate... che è abbastanza importante... quindi... 250... 148... per... i NXGaming... che... si aggiudicano... eh... il Q3... in postazione... all'ultimo... però... giocando... una grande postazione... giocando veramente bene... e... riescono a qualificarsi... a prendersi... lo slot... per... eh... il... in Games Week... per l'SVG... e... soprattutto... comunque... da notare... lo score di Duke... allucinante... vuole vincere... ha voluto... ha voluto vendicare... diciamo... il choke... che è stato... il CTF... con questo... grandissimo... cosa fan... non è finita? no... è finita... è finita... non ti prego... da... da... da notare... da notare... però... che... Magic... è andato in positivo... per la prima volta... che hanno vinto... bastava poco... forse bastava poco... bastava fare qualcosa in più... che... che non c'è stata... nelle prime mappe... per aiutare il team... in quello che... poi era la fase... diciamo... la fase di... fare le kill... che un po' è mancata... nelle mappe precedenti... Magic... ne ho visto sempre... spragolare... diciamo... e... comunque... ha giocato bene... la mappa che contava... quindi... si è... si è veramente... al 100%... riscattato... da quello che stava facendo... quindi... se mi sto sentendo Magic... ti ho vado bene... bravo... hai... ti sei guagnato appunto... lo spot... per... per questa... benedetta LAN a Milano... dove... troverai anche me... troverai anche i Logic... e domani... troverai... Armas Game... e poi... avremo praticamente... giovedì... la Loser... finale... finale Loser... fra Freedom... Team... e... e... e poi... chi... incontrerà... Yatma Pro... nella... finalissima... esatto... vuoi dare... dare un pronostico? ok... eh... allora... non... non conosco... nei Freedom... nei Show... però ho giocato contro gli Show... e penso che siano... abbastanza bravi... in... modalità... non... non... respawn... cioè... ched... che è una sola... però sono due mappe di ched... in una best of five... quindi tipo... nel senso... ched è abbastanza importante... e... e... invece penso che gli arma... sulla carta... siano i più forti... perché... hanno... sicuramente... player che giocano da più tempo... però che non so... come... giocano ultimamente... perché non l'ho visto... e... lo so che... quando in passato... hanno giocato con... il mio attuale membro... dell'Inferno Frito... hanno giocato abbastanza bene... quindi... penso che... comunque... saranno un bello ostacolo... io... prevedo... prevedo... diciamo... una vittoria degli arma... senza subilanciarmi troppo... perché gli Show comunque... hanno un grande... un grande cercare... e potrebbero ribattare... la diversione... in modalità... come CTF... che non sono freneticissime... come a point... e se non sei esperto... perdi il controllo... in vita... assolutamente... assolutamente... vabbè... quindi... diciamo... diciamo... dai... arma vincenti... con... un occhio... io... giovedì è molto interessante... con un occhio... a... a Yesho... che... a loro volta... hanno già perso... contro i Frito... ah... e non lo sapevo di questo... infatti è così... e quindi... dovrebbe essere... combattuti... 2 a 1 hanno perso... quindi... dovrebbe essere... finale... loser... finalissima... molto combattuta... perché... c'è questo... appunto... susseguirsi... di team... che... già si sono incontrati... hanno vinto su misura... gli Show... potrebbe essere una sorpresa... i Freedom... che hanno già vinto contro gli Show... e poi c'è... comunque... gli Arma... che già sono... appunto in finale... quindi ci sarà da divertirsi... anche giovedì sera... vi ricordo... alle 21... andate sul sito... esl... Italia... per... appunto leggere le notizie... riguardo... allo streaming... di giovedì sera... alle 21... allora... ti... ragazzi... dire di che tutto... ringraziamo... quindi... grazie Leo... per avermi tenuto compagnia... questa sera... o averci tenuto compagnia... questa sera... e... spero che... i viewers... si siano... minimo... divertiti... nell'ascoltare... diciamo... questo vecchio... perdente... schifoso piffa... che sono io... assolutamente... però... so che... so che tanta gente... magari non... so che... a tanta gente... magari non sto simpatico... mi dispiace per questo... ma sicuramente... magari... non c'è lui meglio... Boratti dell'Inter... disse una volta... sono contento... di essere diventato... antipatico... che vuol dire... che sto vincendo... quindi... no... va bene... no... no... non sto vincendo... quindi sicuramente... non sto antipatico... perché vinco... sicuramente... forse sono antipatico per altro... perché c'è una cosa che... magari... mi dispiace... nel libro... di pensarlo come vuole... insomma... va bene... allora... quindi... vi ringraziamo... quindi... parliamo a plurale... quindi ragazzi... vi aspettiamo... giovedì... alle 21... per il Q4... quindi... che decrederà... il tabellone completo... per... quanto riguarda... le qualificazioni... alla Games Week... per il 25... 26... a Milano... per l'SVC... posso fare un saluto... a... alcuni... allora... salutiamo... eh... salutiamo... tutti quelli che hanno visto streaming... eh... i giocatori che magari... andranno a vedere il BOD... quando uscirà... perché... per risentire quello che ho detto... ehm... poi... comunque... il mio team... ehm... un... un ragazzo che mi ha mandato un messaggio apposta... diciamo... saluto Logic Mazzo... che mi ha scritto... salutami in streaming... ho detto... vabbè... ti saluto in streaming... e non ti preoccupare... e poi... non lo so... ehm... l'Inferno... che... ci hanno... dato la possibilità di partecipare a questa... di Finiti che... purtroppo... non è andata... come... volevamo... ma... è andata come pensavamo... quindi... chi capisce... capisce... chi... capisce... non capisce... però... vabbè... nessuno si aspettava di vincere... esatto... ricordiamoci... no... vabbè... però... nel senso... alcuni... mi dispiace che alcuni... alcune persone in Italia... pensano che... mi sono divertito a perdere... non è così sicuramente... però... non è... non è che ci sono andato col pensiero... di perdere apposta... questa che magari... assolutamente... assolutamente... non è che ci sono andato là... pensando... se lo voglio perdere... non vedo l'ora... però... appunto... ripeto... bisogna anche dare... comunque... il tempo al team... di amalgamarsi di nuovo... e quindi... eh... non è una cosa da poco... può sembrare... secondo me... ma è una cosa da poco... va bene... allora... ragazzi... vi salutiamo... e... e niente... e vi rimandiamo al sito... SL Italia... per prendere... eh... appunto... notizia... per lo streaming... di giovedì... sera... alle 21... per il Q4... risalutiamo... ciao Leo... e... ragazzi... ciao... a tutti voi... buona serata... a tutti... a tutti... a tutti... a tutti... a tutti... a tutti...